Tanti, troppi bambini per non risultare strano agli occhi increduli di chi li ha soccorsi. Tra i 750 migranti arrivati a Brindisi oggi, 140 sono minori, di cui molti non accompagnati. Di 7, 8 anni, qualcuno 10, quasi tutti di 16 nazionalità siriana. La loro presenza sui barconi bloccati a largo dalle coste libiche ha subito insospettito i militari che anche a Brindisi stanno ragionando sul numero così elevato di minori, chiedendosi se dietro il loro arrivo in Italia non si cieli qualcosa di specifico. Una tratta è il dubbio più atroce perché risulta difficile immaginare che ragazzini così piccoli vengano spediti verso la Sicilia per ricongiungersi con i familiari. Di certo però ora c'è che si trovano nei capannoni ex Monte Catini, nel seno di Levante del porto Brindisino, dove, come giovedì scorso, è stata allestita la macchina della primissima accoglienza. In 750 quindi sono stati salvati nel canale di Sicilia e trasferiti intorno ai 10 di stamattina a Brindisi a bordo della fregata Scirocco della Marina Militare. Nel pomeriggio ci sarà un incontro in prefettura per assumere decisioni tanto sulle modalità con cui verranno date le prime cure ed espletate le procedure di controllo sanitario e poi anche sullo smistamento degli stranieri nelle strutture del territorio.